400 ragazzi delle scuole di tutta la Campania parteciperanno dal 22 al 24 gennaio al progetto IMMUN, Italian Model of the United Nations, simulando alcune sedute dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su temi di forte attualità. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione United Network in collaborazione col Comune di Napoli e con l'Ufficio Scolastico Regionale, è stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. Un laboratorio nel quale in lingua inglese i ragazzi e le ragazze si confrontano con problemi di grande attualità. Secondo un avvicinamento alle istituzioni mondiali, qual è l'ONU in modo particolare, e quindi Napoli diventa per alcuni giorni una capitale mondiale. La formazione per realizzare le sedute di assemblea consente ai ragazzi di approfondire diversi temi importanti del mondo contemporaneo. Quest'anno gli studenti campani dibatteranno in lingua inglese sul diritto di asilo, sui diritti LGBT nei paesi in via di sviluppo e sulla tutela della cultura siriana. Il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli ha annunciato due borse di studio per consentire a due studenti di partecipare alla simulazione internazionale che ogni anno si svolge a New York. È importantissimo farli conoscere meglio la complessità del nostro mondo, farli interessarsi a quel potenziale che c'è nella diplomazia, nel sedersi a un tavolo con persone che sono diverse, che hanno culture diverse, posizioni diverse, per poter dimostrare come il parlare è un miglior meccanismo per poter arrivare alla pace. Allora veramente questa è una delle cose che il Model UN tenta di fare conoscere ai giovani. La ricerca di soluzioni diplomatiche in un mondo che in molti casi vive il conflitto è quello che chiederemo alle giovani generazioni di prendere in mano perché l'ascito della nostra generazione da questo punto di vista è gravemente deficitario.